Cavolo Rossi non mi vedo bello, per oggi volevo essere perfetto, sarà presente tutta la città a questo matrimonio. Steven te lo dico, io che sei bello vestito così. Tanto perché facciamo finta di cambiarci i vestiti, siamo in un cartone animato e i nostri autori non hanno neanche voglia di disegnarci degli abiti decenti. Tanto vale farmi nudo. Steven perché sei nudo ora? Dannazione che autori di merda. Allora Carter, sei gitato? Oggi può essere uno dei giorni più indimenticabili della tua vita. Già uno dei più belli. Ho detto indimenticabile, non bello. Il nostro infatti è stato indimenticabile. Per forza ti sei bevuto tutto il vino santo del prete e alla fine della cerimonia eri ubriaco. Vabbè, il mio prossimo matrimonio andrà meglio. Steven. Vabbè ragazzi, questo è l'anello che devo dare a Kate. Tenetelo voi per ora e datemelo al momento giusto. Che bello, mi sento come Frodo Bebbins. Quindi volete unirvi nella sacralità del matrimonio? Sì, lo vogliamo. Contenti voi, io vi dichiaro marito e moglie. Forza ragazzi, datemi l'anello. Senti Gandalfi Nero, è successo un buffissimo problema. Prima stavo inavvertitamente mangiando un pacchetto di anelli al formaggio e ho inavvertitamente ingerito il vostro anello. E dai. Ora risolviamo, potremmo aspettare e recuperarlo dalla mia età. Steven. Allora dovresti infilarmi una mano nel cu... Steven. Sentite siamo in un cartone animato, autori ridisegnatelo. Bene allora non siete così stronzi. Um. Steven perché sei nudo ora? Maledetti autori. Maledetti autori.